Giuseppe Bertolotti Signori, Giuseppe è l'unico cantante che si fa anche da impresario Guarda, guarda Signori, pensavo fosse l'Elemore in miniatura, invece no Signori, guardatelo, quest'uomo che non deve chiedere mai L'unico che ha un conto con il pimpacca a 9-0 Io vorrei che possiamo, guarda, presentarmi tu Antonio, senza un feste scendere, continuo con voi No, non ho dubbi, guarda, non posso confrontarmi Facciamo scusa, lei è bravissima, mi puoi direttamente presentare ai nostri amici Chi sei, da dove viene, quanti anni hai? Sono Giuseppe Bertolotti, vengo da Scuillaccia Una peste, vengo Giuseppe Bertolotti, vengo da Scuillaccia Bravissimo, vai Ho sette anni e mezzo Dimmi la verità, quante fidanzate hai? Zero Eh, zero, perché se no... Bravo fidanzato allora Bravo, 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 è bene il nostro amico, ci canta cosa, lo salva? Allora, in Assusto, studia canto sotto la guida del maestro Anna Nuzzo Vuoi ricordare il nome della associazione? Sì, questo è per riferimento all'associazione dei Giri Falco Mozart, l'associazione Mozart dei Giri Falco Allora, il piccolo Giuseppe ci canterà un brano che tutti conosciamo L'estate di John Wayne Che è un singolo del cantatore italiano Raffaele Galazzi Pubblicato nel 2016 Il brano è stato inserito nell'album Love, Life, Peace Chi ascolta musica deve stare bene Se ascoltando questo brano o l'album la gente sorride, a me fa piacere Queste sono le parole del cantante Con l'estate di John Wayne canta Giuseppe Bertolotti Vai Giuseppe! Grazie mille! 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 Eh, giocheremo domattina, passeremo un po' di cantare, di migrare, di ballare e di bombare. Stavranno il cinema, l'aspetto e i dischi nell'estate, le cene di banane, che non si vuole e tornerà. L'upe ne pare un colpo eccezionale per noi. Stavranno i figli dalle stelle, sui cuochi di risveglia, le penne sullo in mano e le vanno sul treno. Forza che vestire, spero un po' che è il borgio, quello che è il borgio. Eh, se lo porto a casa, da te lo voglio di cantare, di guidare, e poi cominciare, quello che è il borgio. Ah, giocheremo domattina, passeremo un po' di cantare, di migrare, di ballare e di bombare. Quello che è il borgio è il borgio, quello che è il borgio. E' il borgio è il borgio, quello che è il borgio. E' il borgio è il borgio, quello che è il borgio. E' il borgio è il borgio. è arrivato Giuseppino quindi mi raccomando state attenti cantante ballerino strepitoso presenza scenica testato anche per una delle tue fan mi raccomando il numero io lo chiedi dopo perché mi raccomando intanto un invito alle donne che volessero fidanzarsi con te come deve essere la tua donna ideale la tua donna ideale come deve essere così faccio l'annuncio live perfetto perfetto mi raccomando un altro applauso per il nostro Giuseppe grazie strepitoso come sempre grazie Giuseppe eccolo qua perfetto grazie anche al nostro amico per il suo supporto e noi continuiamo veramente